Si gioca la decima giornata del campionato di basket, il girone di uno della Serie B è entrato sempre più nel vivo. La capolista Rieti, dopo aver spazzato la metaforma nell'ultimo turno, va a caccia dell'ennesimo successo del suo strepitoso campionato e per la seconda gara di file in casa Alex Rigetti ospita una Giacco Sant'Anti Morinata dopo la cura Origlio. Il bel successo nel derby contro Pozzuoli ha caricato Cantone e Soci che al cospetto di Loschi e Andoia sognano il colpo proibito. Dopo il pesante K.O. in quel di Salerno, la Virtus Cassino, terza forza del torneo, ospita la Luis Roma, reduce dalla pausa forzata di domenica scorsa. Entrambe appagate ad otto punti in classifica, i roster di Luca Vettese e Andrea Paccarie vogliono riprendere la marcia e riprendersi la seconda piazza occupata dalla Virtus Arecchi di Parrillo. Virtus Arecchi che chiude il quadro degli incontri. Rezzano e compagni vanno a minturno nel catino della metaformia che tra le mura amiche ha cambiato marcia ed ottenuto la maggior parte dei suoi successi. Colce Parrillo va a caccia di conferma e il secondo posto del Blaugrana va conservato in ottica playoff. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.